A sto punto a me mi scappi al cervello E no, perché questa è una truffa Ma io mi domando e dico Ma come va uno un basangrin pass Capisce se so immun al virus oppure no Ma chi è mandrache, fatemi capire Perché a sto punto per viar sospetto Che quando fanno i decreti manchi li rileggono Oppure che alla base Ci sono dei motivi politici molto molto precisi E non lo so E che non lo sai Ma quante volte a me mi hanno fatto il tampone in farmacia E non mi hanno mandato la mail Ma fammi capire Ma tu lo sei fatto il vaccino Che so due ore che stai a parlare Una lista dei prenotati lunga così Va bene C'è stavamo tutti, tutti quanti In uno stesso hub Eravamo Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik Tutti, Amuchina Arrivano quelli in fila prima di me Va bene Arriva questo se si è il gabbiotto Dice oddio me gira la testa Piessa ne va Dice chiamate l'altro prenotato Arriva questo se siete Oddio me viene i brividi Piessa ne va Vedo un infermiere che sbianca Disperato Che fa? Dice aiuta, aiutatemi Qualcuno se deve fare inoculare Io me lo guardo e gli dico Na mo va piasta siringa va A ricoglite quel giacone Fammi finì fammi Oh aspetta un attimo Raccontaci che te è successo di preciso Sono curioso di sentire Dice, dice Me fa una siringa Prometto che il labb era marone Faceva schifo Come me inoculano Me cala la pressione Immediatamente mi sento i muscoli E le gambe che mi esatrofizzano Tutti fino a giù Poteva essere di tutto A un certo punto Me sento come una scarica elettrica Ma vai mona Un vaccino che diventa Una contraerea Ma poteva essere una reazione allergica, una trombosi, un ictus, sai che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Ah, sono rimasto al lab tre ore e mezza, amore. Vabbè, ma poi come andate a finire questa storia? Come gli dà a finire? Signori, è i dà a finire che mi hanno dovuto fare dodici dosi, dico dodici, perché non si sapeva che variante era. Hai capito? Roba che una seconda dose entrava già in coma. Domanda. Come va a spiegare questa resistenza al vaccino? Come te la spieghi? Dai. Che cazzo ne so? Come te la spieghi? Dai, forse. Eh, che ne so io. Ve lo dico io, che c'ho l'anticorpi chi contro coglioni, ha capito? Ma magari mi venisse il covid, ma magari mi venisse, ho svere non due ore, corre so, dieci e mezza, a mezzogiorno e mezzo ho sventrato. Comunque, signori miei, io vi dico soltanto una cosa. Se io fossi veramente in fiota e una mignotta, io potrei veramente fare il nome dell'hacker che ha bloccato il sito della Regione Lazio. Lo sai che significa questo? Chiede un sacco di sordi. Questo significa... La pausa è finita. Tutti quelli del Moderna da questa parte, forza!